Tyler, nove mesi fa eri clinicamente morto. Ma sei sopravvissuto. Hai lottato per restare in vita. Ora devi solo scoprire perché. Abbiamo avuto un lavoro. E vogliono che lo faccia tu. Dobbiamo andare! State tutti bene? E voi là dietro? Perché hai accettato di farlo? La conosci? Tyler? Vi farò uscire da qui. Devo capire perché ho lottato per sopravvivere. Scopriamolo. Grazie per la visione. Grazie a tutti